Questa teoria della relatività non è affatto scientifica, è basata su un ragionamento che è puramente speculativo, può anche essere interessante sul piano filosofico, ma dal punto di vista scientifico non ha alcun valore. Io in realtà non ci ho capito molto, eppure come principio non ha niente di così complicato. Non sono della sua opinione, signor Plank. A mio avviso è geniale, è anche limpido. Non c'è infatti un solo tempo e un solo spazio, esiste al contrario una moltitudine di tempi e di spazi, signori, solamente che entro ciascun tempo e entro ciascuno spazio vi è una relazione oggettiva indipendente dall'osservatore. Ecco tutto. Mi perdoni mio caro collega, dove sono i dati sperimentali di tutto questo? È basato soltanto su delle teorie. Molto nebulose oltretutto. Per quanto mi riguarda posso dirvi solo una cosa, se queste teorie come penso sono esatte, il fisico che è l'autore di questo articolo passerà alla storia come il copernico della nostra epoca. Einstein capì che la velocità della luce è una costante universale, non cambia mai, ha sempre lo stesso valore per chiunque la osservi. Potrebbe sembrare soltanto una curiosa proprietà della natura e invece ha conseguenze straordinarie e sorprendenti. Anzitutto fa crollare un'idea che tutti diamo per scontata. L'idea che si possa parlare della simultaneità di due avvenimenti. Siamo abituati a considerare simultanei, cioè contemporanei, due avvenimenti che si verificano nello stesso istante di tempo. Sembra una definizione chiarissima, precisa e senza problemi. Ma guardiamo che cosa succede su questo treno. Al centro del vagone c'è una lampada. Quando si accende invia luce in avanti e all'indietro, verso due schermi posti all'estremità del vagone. I due schermi si trovano alla stessa distanza dalla lampada. Quindi la luce arriva ai due schermi nello stesso istante. Ora ripetiamo l'esperimento con il treno in movimento. La velocità della luce, secondo Einstein, è la stessa di prima. Lo schermo al fondo del vagone va incontro alla luce, mentre quello all'inizio del vagone scatta in avanti. Il risultato quindi è ovvio. La luce raggiunge prima lo schermo di destra, poi quello di sinistra. Ma questo che cosa significa? Significa che i due venti che ci sembravano simultanei quando il treno era fermo, adesso non lo sono più. La luce è la stessa, il vagone è lo stesso, ma gli schermi vengono raggiunti in istanti diversi, soltanto perché il treno è in movimento. E che cosa vede chi sta sul treno? Dal punto di vista dei passeggeri che guardano fuori dal finestrino è il terreno che si muove, mentre il treno appare fermo. Chi sta sul treno quindi vedrà arrivare la luce ai due schermi nello stesso istante. Insomma, gli stessi due eventi visti dal treno sono simultanei, visti da terra non lo sono. Per sapere se due avvenimenti sono contemporanei bisogna prima specificare per chi. Se sono simultanei per un osservatore fermo non lo saranno per uno in movimento e viceversa. Tutto ciò non accadrebbe se la luce variasse la sua velocità adeguandosi a quella degli osservatori, come previsto dalla relatività di Galileo. Invece la velocità della luce non cambia mai. È per questo che Einstein la chiama costante universale. E allora per chi sta in treno e per chi sta a terra il concetto di simultaneità ha due significati diversi. Perché ci sembra tanto strana l'idea che sia impossibile dire in termini assoluti se due eventi sono simultanei oppure no? La ragione sta nel fatto che noi come Newton e come tutti prima di Einstein siamo abituati a pensare che il tempo sia qualcosa di assoluto, qualcosa che scorre per conto proprio nell'universo, indipendentemente da noi, da quello che facciamo, da come ci muoviamo. Secondo Einstein invece non è così. Il tempo assoluto non esiste e anche il concetto di simultaneità è relativo. Dipende da dove avvengono gli eventi e da chi li osserva. Rimane naturalmente un grosso interrogativo, un enigma che alla nostra mente continua a sfuggire. Perché accade tutto ciò? La chiave di tutto per capire la relatività consiste proprio nel rovesciare questa nostra vecchia credenza che si è ormai dimostrata sbagliata, dicono i fisici. Il tempo e lo spazio non sono cose fisse, assolute, ma sono relative al sistema in cui si muovono. Per capire questo nuovo modo di ragionare bisogna prendere il concetto di velocità come il concetto chiave. Al centro di tutto il sistema c'è la velocità della luce. Quando la velocità è vicina a quella della luce il tempo si dilata e lo spazio si contrae in progressione molto rapida. Quando diminuisce riporta le cose come prima. Nei nostri sistemi umani la lancetta si muove solo nella prima parte del quadrante, quindi il tempo e lo spazio ci sembrano fissi e immutabili. Ma se riuscissimo a arrivare a fondo scala vedremmo tutto cambiare, sia le dimensioni che il tempo.